che si viene aspetta stai a mani come la d'inciufo al battle la vado a prendere adesso adesso vengo con te perchè devono vedere anche anche la dentro vogliono vedere la roba che sta no 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 te ti fai vedere niente qui va no vai dentro non si viene dentro vai io posso andare dove voglio da qua da Jimmy ah tu ma che mi piace questo qua è un fratello di Lido del tuo vedi ha quel farfallo lì ma anche quello lì venivano a casa in fratello ma cosa c'entra con quello il 300 quello lì hai figlio di sua sorella anche il tuo quello che hai preso casa il farfallo ah 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 all'altra c'è qui La femminina qua, vedi? La femminina. Dopo te la faccio andare. Questo qua chi è? La vacca da Pasarei, la vacca da Pasarei. Non la mandi più. Allora l'ho presa, è venuta a casa e l'ho presa. E la figlia da cosa? Del Targento. Del Trecento. Questo qua chi è? Del Targento. Adawa, il Trecento. Eh, San Carfat. Miglior Colombo? Primo nello d'oro del gruppo. Primo nello d'oro. Quarto nazionale nel misto. Quarto nazionale nel misto. Al campionato italiano. Al campionato del campionato italiano. Ottavo nazionale nella velocità. Ottavo nazionale anche nel Sorak. Nazionale nel Sorak. Primo nella gara nazionale. Primo nella gara nazionale. E poi quattordici premi in tutta l'annata. Quattordici premi, con due primi e due secondi. Quest'anno? Sì. El Nea ha una regia di Chollumbo. Quattro. 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 non lo vedo e adesso ti regalo 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 grazie a tutti